I perletti sono andati in vacanza a Sharm, non senza intoppi. Ecco cosa è accaduto nella notte. I perletti si divertono in vacanza a Sharm documentando il soggiorno con diversi video e delle foto. Il loro amore prosegue a gonfie vele dopo il ritorno di fiamma al grande fratello. Così si sono concessi questo viaggio e da distanza di due anni Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno deciso di tornarci perché è lì che sono stati bene. I due ex GFini hanno vissuto in passato una storia che è durata 5 anni. Storia poi naufragata durante la partecipazione a Temptation Island. Ma c'è voluto il grande fratello per farli tornare insieme e infatti da allora non si sono mollati un attimo, fatta eccezione per gli impegni lavorativi. I due stanno bene insieme e sono in perfetta armonia. Ma stanotte, intorno alle 2 del mattino, mentre rientravano in camera si è verificato un intoppo. In pratica la carta si è smagnetizzata e Mirko è andato con la sua dolce metà alla reception per farsela restituire ma ha sbagliato a dare il numero della stanza. Tutto senza accorgersene, infatti ha aperto la stanza di un'altra coppia che stava dormendo sino a quando il loro ingresso non li ha svegliati.